Giuseppe Conte e le frasi dette al contrario, quando forse si potrebbero dire in maniera diversa. Guardiamo un estratto da porta a porta e poi lo commentiamo insieme. Dobbiamo partecipare alla guerra, dobbiamo incrementare le spese per domani mattina entrare in guerra. Direttore, questo è il tema. Allora diciamo così, diciamo ai cittadini che ci guardano che il raddoppio delle bollette, il fatto che ad esempio un milione di interventi sanitari siano stati accantonati per l'era Covid, 10 milioni di interventi diagnostici, di esami diagnostici hanno stati messi a parte, non ci interessano. Lasciamo le famiglie, lasciamo le imprese nella difficoltà di arrivare a fine mese, di chiudere intere filiere produttive, lasciamo i cittadini senza tutela di quantità della salute e ci dedichiamo alle spese militari. Questa figura retorica si chiama antifrasi, leggo da treccani.it, figura retorica che consiste nell'esprimersi con termini di significato opposto a ciò che si pensa, o per ironia o per eufemismo. Bene, qual è il problema di utilizzare le antifrasi nei discorsi politici? Il problema sta nel fatto che quando comunichiamo al pubblico, quando comunichiamo con le persone, dovremmo essere chiari, lineari e diretti. Quindi se l'intento di Conte era quello di dire dobbiamo investire di più nella sanità, nelle cure per i cittadini, anziché nelle spese militari, è importante dirlo così o in maniera simile. Ma se io per dire A dico non B, diventa più difficile decodificare il messaggio. Pensate anche a quanto sta cambiando la fruizione della TV nel 2022. Le persone cambiano canale rapidissimamente, ce lo insegnano anche i social network questa cosa. Bisogna mantenere l'attenzione secondo per secondo. Bene, ma se io capitassi proprio su quel passaggio, in cui lui attraverso questa figura retorica afferma negando, rischierei di capire la negazione per affermazione, anziché capire che quella era una figura retorica. Cerchiamo inoltre di ricordarci una cosa molto importante. 16.200.000 italiani hanno come titolo di studio più alto la licenza elementare. Il comunicatore deve prenderne atto. È un dovere del comunicatore veicolare il suo messaggio in modo tale che il maggior numero di persone possa capirlo. Per fare questo esistono risorse linguistiche molto più efficaci dell'antifrasi.